Ciao Sticchini, come va? Eccoci alla seconda puntata del video interattivo fatto con la vostra partecipazione. Se non avete visto il video e non sapete di cosa si tratta nel primo video, vi metto come al solito qua sopra. Comunque, in parole povere, su Instagram sia la prima volta che la seconda vi ho chiesto, vi chiedevo delle domande, scrivetemi delle parole, scrivetemi dei verbi, scrivetemi cose che tutte queste vi avete scritte voi e faranno parte della trama di questo video. Quindi grazie a chi ha partecipato, poi a mano durante il video scriverò. Quindi in pratica io andrò avanti con la mia storia e di tanto in tanto, cioè spesso spesso perché ce n'è un sacco, leggerò i vostri suggerimenti e la storia andrà avanti così, scoprendo mano a mano i vostri suggerimenti. Quindi cominciamo. Ehi di, l'hai sentito? Che cosa? Ma sì lì di quell'orologiaio? Ma certo, ma che faccia fare? Lì, quello lì che stava in mezzo alla natura. No, il Leopoldo. Ma sarà mica il figlio del magazziniere? No? E allora di Andrea Pizza? No, allora mi ho capito, scusa. Ma quello lì è che stava con l'estetista? E cosa l'ha combinato? Praticamente la Camilla, sai no la Camilla? Assieme a la la Rebecca? Sai no la Rebecca? Eh, stasera mi sei un po' rimbambita. Sono andate a mangiare. Eh, aspetta. La Camilla assieme al Gianfrancesco ci avevano un inciugio. Eh, quindi riposa un po', metteteli comoda che ti devo raccontare. Eh, ma aspetta, mi sa che già io so che il frigorifero aveva cominciato a scrocchiare. Ma come il frigorifero di chi? Aspetta un po'. Allora, il potere di correre e poi di passeggiare non è mica da tutti. Ah, me l'ha insegnato Ines. Ma cosa vai cianciando? Io ti stavo raccontando lì della Camilla e del Gianfrancesco. Eh, il rettore. Ah, la Donatella? Mi è sempre piaciuta. Ma va, ma che la Donatella? Ma stasera sei proprio rimbambita. Cos'hai bevuto? La grappa corretta con la vodka? Ma io non so. Il rettore, il rettore, non la rettore. Eh, si vede che proprio non sai padroneggiare la lingua. Eh? Vabbè, comunque, la Camilla e il Francesco erano a Creta. E poi hanno incontrato lo spazzacamino. così bene. Allora. Eh? Soria in linea.